Allora Sergio, sono venuto da conoscenza che vi serve e che dobbiamo portare dei sacchi. Dimi se sbaglio? Corretto? Allora, noi adesso stiamo partendo per portarvi tutte le arginature che vi possono servire. È andato tutto secondo le previsioni nella maxi esercitazione della protezione civile Lambro 2023, coordinata dalla prefettura, con la collaborazione di tutti gli enti competenti in materia nella provincia Brianzola. 15 comuni coinvolti nella simulazione di un'ipotetica alluvione ed esondazione del fiume Lambro con l'obiettivo di verificare la tempestività dello scambio di informazioni tra le istituzioni e il loro coordinamento nell'attivazione dei soccorsi, testando i protocolli di emergenza e le eventuali criticità a cui rimediare. Dopo le comunicazioni fatte per venire ai cittadini e i primi interventi di messa in sicurezza già nella serata di venerdì, tutti pronti al momento della segnalazione alla prefettura e alla provincia di estesi allagamenti sul territorio nella mattinata di sabato. La macchina dei soccorsi si è subito attivata, procedendo alla messa in sicurezza dei cittadini con l'evacuazione di scuole e abitazioni, intervenendo sulla viabilità e simulando la protezione degli argini dell'Ambro con il posizionamento di sacchi di sabbia. Una giornata che ha segnato anche la prima attivazione in un'esercitazione del nuovo centro operativo di addestramento della protezione civile ad Esio, inaugurato lo scorso dicembre. Mancava da anni un'esercitazione sul campo di questo tipo, importante perché coinvolge 15 comuni, ma non solo i 15 comuni perché qui presso il CCV ci sono rappresentate altre protezioni civili di altri comuni che non sono direttamente interessati dall'asta dell'Ambro e quindi sono pronti ad andare in supporto e in caso dovessero esserci criticità in qualche punto, in qualche gruppo di protezione civile appunto dislocato lungo il fiume Lambro. Dopo appunto due anni di emergenza Covid è la prima volta in cui si riesce a testare proprio sia a livello di telecomunicazione sia a livello di operatività sul territorio, quindi stamattina potete vedere che in fase di allarme rosso noi siamo pronti per partire a supporto delle unità di crisi che in questo momento magari possono avere dei problemi. Verso mezzogiorno la conclusione dell'esercitazione con gli avvisi inviati ai cittadini e alle autorità e il rientro delle strutture statali e provinciali al centro operativo per un ultimo momento di debriefing. Perfetto, grazie, attendi, rientra sereno, grazie per la collaborazione, chiudo.